Bella ragazzi, qui erano e bentornati, eccoci con questo nuovo video, siamo arrivati all'ottavo episodio del FIFA Obiettivi nonché il secondo di questo gruppone, ci eravamo lasciati con un buon primo episodio e in questo ho voluto sistemare qualcosina nella formazione ascoltando anche molti dei vostri consigli senza spendere tantissimo, penso neanche arrivare a spendere 10.000 crediti ho cambiato in attacco Pedro Convela, che anche Mancino è veramente un attaccante fortissimo a centrocampo ho messo Isco al posto di Santi Casorla, che l'avevo preso dall'Omega della Premier quindi non faceva intesa, quindi ho messo Isco al centrocampo e in porto ho sostituito Diego Alves, che ci faceva sudare freddo veramente ogni volta e ho messo Courtois, che veramente è qualcosa di epico quindi questa è la formazione, gli obiettivi li vedete in questo momento in grafica ne abbiamo ancora un bel po' da fare, cercheremo di vincere le partite, rimanere a porta inviolata e se capita qualche gol particolare cerchiamo di farlo già in questo episodio detto questo, non perdiamo altro tempo, buona visione a tutti quanti ragazzi, a tra pochissimo, bella primo team di oggi signori, grazie tutti i blu, tutti i blu, va che belli che sono con i barbo davanti a baggare per bene ottimo inizio cazzo, ole di testa Courtois, grande occhio ai barbo madonna Courtois Jonas Jonas, attenzione se ne va via bene, gol di Jonas che bomber, non perdona una finta a uno e mezzo all'ora oh che fatica vai vai occhio ai barbo occhio ai barbo, occhio ai cross no dai, di testa ma come cazzo ha fatto a passare? ero davanti io Tevez di testa è alto, è un nano si ronni, contro la chiella si ronni, si ronni mettila ronni palo respinta carlitos 2 a 1 boom bello bomba dritto ronni, dritto per dritto che sei più veloce sei più veloce ronni, sparagli dentro la bomba addio sta respinta ancora velita, uomo respinta come pippo in zaghi va bene ottimo in netto quello di carlito 3 a 1 carlitos vede Isco dio, ronni dal fondo campo che cazzo sta succedendo occhio palo che culo l'avevo già vista dentro vai ronni accentrati finta finta ora e non ce la fa tirare porca merda Jonas che gol di Jonas oddio doppietta di Jonas incredibile da fuori area grandi emozioni per lui oggi dai che così occhio al centro e Sharawi porca troia occhio che riparte Tevez è buggato non si ferma Courtois a farfalle 4 a 3 dobbiamo resistere e non fare un fail storico si è finita che sofferenza che sofferenza signori l'ho vista malissimo alla fine ce l'abbiamo fatta però prima vittoria di oggi purtroppo porta in violata non l'abbiamo fatta e nient'altro però portiamo a casa una vittoria in più contro una squadra che era abbastanza tosta andiamo direttamente alla seconda speriamo di far cioè doppietta di Jonas è l'epico soprattutto quello di Jonas andiamo direttamente dentro la seconda ragazzi cosa dobbiamo fare eccoci qua questo c'ha una MLS davanti mixata a una Barclays dietro quadra particolare con Oba Oba Martins e TT Henry bravo bravo Pikheton do cosa stai facendo Xavi spiegamelo occhio oddio Courtois via bravo bravo vai Ronnie insacca il tuo primo gol di pallonetto tra l'altro bello bello mi è piaciuto proprio occhio ehi grazie ehi non fare il cross grazie e basta sti cosi no 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 eccolo porca troia è 20 minuti che in quella cazzo di aria non riusciamo ad andarcene fuori ciao imbattibilità di sta partita dopo 23 minuti dai sogni di gloria sono andati a fare in culo va bene vai da solo Camacho ma non me la sbagliare così vela oddio non ce l'ha fatta Ronaldo porca troia buona perisco buona perisco il tiro palo Gesù bambino che sfiga vai Ronnie no raga è buona sciavito non ci credo Jonas ma vai a pigliarlo nel culo va Jonas attenzione pallonetto gol di Jonas di pallonetto all'86esimo dai è così Jonas oddio non ci speravo più ormai 1-2 perfetto non era in fuorigioco ce la fa gol di pallonetto è il primo non mi fare il gol buggato ti prego ti brucio godo butta la via godo tantissimo occhio al contropiede occhio di là raga occhio di là no Camacho con Martins no Camacho con Martins Courtois ciao 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 bella beffa presa al 91esimo da Martins perlomeno abbiamo fatto il primo gol di pallonetto con Jonas e vediamo la terza cerchiamo di riprenderci al meglio con la terza maledizione ultima partita di oggi ragazzi abbiamo ancora Ronny a secco e oggi non è una bella cosa però cerchiamo di riprenderci in questa partita anche se sarà abbastanza tosta l'ho già capito come potrebbe essere dai Ronny cazzo si Ronny buttagli dentro un bombolone si così dopo due minuti dai Ronnino cazzo ora 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 perfetta per Ronny gol di pallonetto attraversa guarda dai inserire un cristone qua eccolo eccolo lì eccolo lì il gol di testa il gol di testa strano cazzo strano non riusciamo a fare una partita senza pigliare un gol del cazzo in qualche modo ma non c'è modo ragazzi di non fare una partita senza subire gol in qualche modo contro sti qua un gol lo pigli sempre porca via no via 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 che cagata questa me la merito questa me la merito perché invece di spararla lunga gliela passiamo qua un centimetro giusta così questo ti rivede anche otto volte il replay è un piacere è un piacere grazie vai ronny porco due vai ronny sì come pari oh almeno questa dai siamo di nuovo pari siamo di nuovo pari occhio gol della merda non ci credo raga dai vi prego ma possono fare soltanto sti gol così da metà campo col bug che palle sì ronny oddio palo ma io va a fare in culo ma cosa aveva fatto oh cazzo oh cazzo oggi mi tocca vedere carlito vai te carlito vai col gol di pallonetto carlito gol dai raga tre pari carlito di pallonetto ho messo anche il secondo grande carlito abbiamo finito i gol di pallonetto aia ronny di testa velare spinta gol dai 4 a 3 velita il nostro pippo in zaghi no no che mi inserisce cultua cultua dove cazzo sei dove cazzo sei cultua 4 pari finisce qua ho 4 minuti di videocamera ragazzi poi si spegne quindi gli ultimi secondi non la vedrete i supplementari non regalano grandi emozioni saranno quindi i rigori a decidere questa interminabile partita sì curto che pari rigori jonas perché c'è jonas tirare un rigore se qualcuno me lo spieghi sì così sì carlitos dai è così guardato madonna mia è imparabile questa sì gol di sciavito abbiamo vinto signori vittoria soffertissima però abbiamo vinto gol di poneto fatto gol di donaldo fatto non ce l'abbiamo fatta a fare neanche una partita senza subire gol mamma mia che fatica anche per oggi ragazzi il video è finito è stata una sofferenza abbastanza grande quella di oggi abbiamo portato a casa però altri due obiettivi ne mancano tre che cercheremo di fare nel prossimo episodio ovvero di vincere l'ultima partita che ci rimane di fare due parite senza subire gol e la vedo abbastanza difficile così come vedo abbastanza difficile fare il gol entrando in porta con la palla ma faremo del nostro meglio nel prossimo episodio detto questo io vi ringrazio mi ricordo di lasciare un bel mi piace vediamo se riusciamo arrivare a 10.000 mi piace e ci vediamo presto con tanti altri video qui da Ron alla prossima bella